Andiamo adesso a Conversano, nel Barese, da dove arriva un esempio virtuoso, una industria che opera nel pieno rispetto dell'ambiente. Vediamo. Lo sviluppo industriale passa attraverso il rispetto dell'ambiente e dell'uomo. La Master, azienda pugliese leader nel mercato globale degli accessori e delle finestre e serramenti, ha realizzato una nuova aria green nella zona industriale di Conversano, accanto allo stabilimento, immersa negli ulivi. Si tratta di un parcheggio di 8.000 metri quadri con una capienza di 226 posti auto riservate ai dipendenti e al pubblico e con la predisposizione e l'installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici. L'investimento si inserisce nel nostro piano di investimenti 2020-2021 e nasce da un'esigenza espressa dalla nostra popolazione aziendale in diverse survey che facciamo periodicamente per misurare la soddisfazione delle nostre persone e il clima aziendale. Oltre a questo è stata realizzata per migliorare la sicurezza interna, in quanto siamo andati a ridurre notevolmente gli spostamenti di veicoli e persone all'interno del perimetro aziendale. L'azienda impiega circa 300 dipendenti. Negli ultimi anni si è affermata come modello virtuoso di economia circolare.